adesso riprendo dal giardino faccio una ripresa dal giardino è molto diciamo molto bello suggestivo no però come dicevo dentro dentro tutto fatto in legno e moquette quella rossa moquette rossa chissà quanti anni ha la roba tutto poi il pavimento è tutto tappezzato con le mattonelle finte di plastica comunque si presenta bene adesso vado da qui passo da qui è molto romantico i ponti c'erano lo sanno fare loro sono degli eccellenti giardinieri però le camere